Buongiorno, oggi voglio presentarvi il nostro nuovo Slim Audio, questo che vedete in mano. Questa è la nuova versione, un registratore audio, normalmente occultato come vedete all'interno di un termore stringente, perciò passa inosservato al massimo. Questo micro registratore è ideale per una sorveglianza audio in modo occulta, oppure per esempio per registrare una conversazione tra presenti, inserendolo all'interno di un pacchetto di sigarette, oppure direttamente nella tasca della giacca o dei pantaloni. La qualità audio è eccellente, sul nostro sito internet potete ascoltare un file di registrazione che abbiamo messo online, proprio per farvi ascoltare la genuinità della qualità audio del registratore. Il registratore ha una durata massima di memoria di 33 ore, però la batteria ricalicabile ha una durata massima di 15 ore, perciò potremo fare delle registrazioni continue, senza attivazione vocale, per 15 ore. Come vedete la dimensione è proprio piccolissima, il micro registratore ha un piccolo interruttore qui al centro del registratore, l'utilizzo è semplicissimo perché basterà cliccare l'interruttore in basso e il registratore entrerà in azione. Adesso faremo una piccola prova dimostrativa per vedere l'efficacia di questo registratore. Eccolo qui. Adesso posiziono il registratore di questo tavolo, mi alzo e vado a fare un piccolo giro così vediamo che qualità audio ha. Tenere presente che adesso mi trovo a circa, sono a circa 4 metri dalla scrivania, mi allontano ancora di più, mi porto qui vicino alla porta, nell'altra stanza, eccomi qui, mi trovo a circa 6-7 metri, tenete presente che c'è una parete in mezzo, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Adesso mi avvicino nuovamente e vediamo e riascoltiamo la qualità della registrazione. Adesso l'ho spento, perciò per l'accensione basterà solamente cliccare su questo piccolo interruttore, adesso prendiamo il capetto in dotazione, lo inseriamo qui nel registratore, tenete presente che la batteria si ricarica tramite porta USB, soltanto in questo modo, inseriamo il micro registratore e adesso l'operatore viene qui vicino, vediamo, bisogna attendere alcuni istanti, che si apre la cartella del registratore con tutti i file all'interno, eccolo qua, ok, adesso apriamo il file e lo andremo a riascoltare. Adesso posizione registratore del risultato, un mi arco e vado a fare un piccolo giro, così vediamo in qualità audio, nel presente che adesso mi provo a circa, 4 metri dalla scrivania, mi portavo ancora di più, mi portavo ancora di una volta, un'altra stanza e qui mi trovo a circa 7-3 metri, tenete presente che c'è una paese in mezzo, uno e due e tre, uno, due e tre, uno, due e tre, uno, due e tre, uno, due e tre, una razionata vicino, non lo mette e vediamo, e riascoltiamo la qualità della registrazione che abbiamo fatto. Come avete ascoltato, la registrazione è perfetta, una qualità audio eccellente, per la cancellazione dei file e delle registrazioni basta andare col tasto destro del mouse, elimina, ecco qui che abbiamo svuotato la memoria e abbiamo cancellato le registrazioni mi raccomando, cosa molto importante è rimuovere il registratore da qui in basso rimozione sicura dell'hardware, perciò cliccate sopra, fai espelli e abbiamo disattivato il registratore come avete visto il funzionamento di ascolto è una semplicità unica il registratore, ripeto, ha delle dimensioni ultra ridotte, guardate quanto è piccolo è vendita sul nostro sito internet www.spiale.com vi ringrazio per averci seguito anche oggi e vi auguro una buona giornata